Musica Nasce ad Arezzo il Comitato Donne Arezzo per il Sì, per sostenere la riforma costituzionale che sarà sottoposta al referendum confermativo nei prossimi mesi. A promuovere la nascita del Comitato è la senatrice Donella Mattesini, presidente del Comitato Monica Bettoni. Noi siamo qui proprio perché questa riforma deve essere illustrata nei suoi contenuti, perché quando se ne parla si parla soprattutto in termini di polemiche politiche e invece è bene che i cittadini e le cittadine abbiano piena consapevolezza dei contenuti per fare cosa? Per scegliere in piena libertà. Noi siamo fermamente convinti per il Sì, io in modo particolare perché per tanti anni ho vissuto in Parlamento la possibilità di fare una riforma costituzionale piena, soprattutto per l'abolizione del regime delle due camere perfettamente uguali, non ci siamo mai riusciti. E anche per quanto riguarda la parità di genere è dal 1993 che ci proviamo e finalmente in Costituzione questo è passato. La presentazione, ospitata dall'Arena Eden, ha visto la partecipazione della vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli. Semplificare e rendere più efficiente e più trasparente un processo democratico per fare le leggi aiuta donne e uomini, ma cosa c'è in più e trasversale al superamento del bicameralismo paritario che già di per sé è un valore, una semplificazione? Che all'articolo 55, che è uno dei primi articoli che cambiamo e riformiamo con questa riforma della seconda parte della Costituzione, introduciamo un principio concreto e generale sul fatto che in tutti gli organismi di rappresentanza deve esserci l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini. Il fatto che si partecipi nella gestione insieme di donne e uomini della responsabilità pubblica vuol dire, dal nostro punto di vista l'esperienza ce lo dice, corrispondere meglio ai bisogni reali delle persone. Donne e uomini insieme fanno meglio la politica.